voglio segnalarvi due appuntamenti assolutamente da non perdere ricordate giorno 12 e 13 febbraio saremo in diretta da Piazza Duomo da Acireale per seguire il più bel carnevale di Sicilia saranno due puntate davvero speciali quindi vi aspettiamo 12 e 13 febbraio in diretta da Acireale stasera non ci sono stasera non ci sono che succede? ma chi è? c'è la porta ma chi è? ma chi è che sta bussando alla porta? Osaka tu padre finalmente l'ha comprata la macchina a 50 profumata e questa sera è rica riparata nella roma rimbarata in un po' salta vai dando un anno e fai una argillina ci trovo bene in doppia ma carina salgine o assaggiate topoline e questa sera è tutta voce ma chi è? ah chi sta? chi sta? chi sta? chi sta? eeeh scusate in teatro non si fuma c'è scritto di vieto vietato fumare non si fuma lo dico io si lo dico io io sono il conduttore lo dico io il conduttore il conduttore acqua patena non appartengo a nessuno sono il conduttore della trasmissione la gestione stai recendo acqua patena sono il conduttore non appartengo a nessuno allora se come un bernaccio se tu faccio io non si sente tu faccio fare della miscia al mio tre è un bello bernaccio che c'è notte Stefano uno due tre volevo farmi i complimenti abbiamo un pubblico Nuccio Nuccio siamo un pubblico stasera Nuccio 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 c'è un bernaccio 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 ma questo questo scusi queste cose di biciotteria che indossa stasera la biciotteria si mette a saro quando c'è ah direttamente scusi sto vedendo che ha delle collane che fa? delle collane male male sui cavoli tutti ma come Matteo c'è male 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 ma dove c'è? no ma io c'è bambola bambola stai capendo diciamo io? ho capito ho capito però ce l'hai sta bambola tu? ma ci hai riuscito ho chiesto la licenciata non ci spara ma non si minaccia ascolti non si minaccia ma chi sta legando? Ma chi sta dando? Sta facendo un video la signorina. Scema la lancina! Scema la lancina! Scema la lancina! Venga qua signor Luccio. Ce l'abbiamo con il compagno? Io so. Abbiamo un po', non ce l'hai. Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Mambo la, mambo la, mambo la. Signor Luccio, signor Luccio, venga latti, venga latti, venga latti. Signor Luccio, venga latti, venga latti. Signor Luccio, ma perché guarda così male tutto il pubblico? Ma chi sta dando le mani? Ma non è che le mette le mani addosso alle persone. Leva mille le mani. Prima la lascio via. Le posso chiedere una cosa? Questa signorina che arriva da fuori, da dove arriva la signorina? Da Paternò, arriva da Paternò. Si fa il cavaretto, non mi accanto. Da Paternò, si comporti bene, faccia la persona per bene, cordiale, si faccia vedere. No, però con un atteggiamento un po' più signorile. Avemo amici a Paternò. Con uno più signorile. A chi conosce Paternò, scusi? C'è qualcuno che conosce... Ma ce l'ho fatta, ha fatto il cuore. Ma che cosa fa il cuore col fumo? Eh, faccio magari peluche. Ah, si ha detto. Eeeeeeeh! Questo rappresentava il deciminiere educatale. Ho capito, ho capito. Dico, cortesemente, in forma più educata e più italiana, magari più possibile. Cioè, io veramente... Oh, mio frate Roberto! In mio conto, su Roberto! Le posso dire una cosa? Ma lei come fa? Cioè, sua moglie come fa con lei a casa, veramente? Paternò, ma cosa sta parlando? Vedi che il papà a casa si fa rispettare e metto la moglie a tavola. Ma perché? Chi comanda? La mia moglie è sotto la mia, sempre. Sua moglie è sotto di lei? Comanda, papà! La mia casa come io faccio così, non c'è un bottone salto dalla casa. Addirittura! Tu non hai regato la casa, non comandi. E tu non ho comandi. Comandi. Ma questo è italiano. Eh, eh, e facciamo. Ma che sta a lei? Ma che facciamo? Mineciamo tutto il teatro? Ma che facciamo? Ma io così, acqua per te. Pugge, pugge il filo. Ma che è il supermercato, il filo? Io chiedo scusa al nostro pubblico. Chiedo scusa al nostro pubblico se i modi di questo signore sono dei modi un po' così. Allora, sai che facciamo un pari? Sì. A quanto devi fare sentere un pari? Sì. Che c'è l'annuncio dance. C'è l'annuncio dance? L'annuncio dance. Sta uscendo ora nelle piattaforme. Nelle piattaforme? Eh, ma vuoi sentere un bezzo? Ah, le trovi online? Te le faccio sentere un bezzo. Un pezzettino, mi faccio sentire, grazie. Ehm, un pezzettino a tutti. No 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 no. OK, pa, per te. Ah, per te. Ah, per me là. Ah, per te. Ah, per te. Ah, per te. Ah, per te. Ma chi sta da lì, eh? Ma che p***o abbiamo fatto il pezzo? Abbiamo fatto anche il pezzo adesso. Non è da risolvere per sentirlo. Ma scusi, in quale piattaforma si trova questo pezzo? Su RobaFive. Su RobaFive? La smetta, la smetta. Si sta uscendo. Tutte le discoteche la passiamo al motore. Mi raccomando, mi raccomando, questo sarà un pezzo che sarà un tormento. Dici a dire che ci facciamo un omaggio a me con Matteo. E ci abbiamo un po' di babola. Ce l'abbiamo, ce l'ha. Ecco, ci hai bisogno una! Mi sono protetto. Perché ridete? Perché questa mano è così? Salva pezza. Sì? Perché qua non mi sono protetto. Va bene. Meglio che ti fai la rara ora. Meglio che ti fai la rara ora. Mi consiglio di farti la rara ora, scuotemi. Ti fai la rara ora perché se stai rinchiottata... No, 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 no. Fai la rara ora. Ma scuotemi. Guardi che c'è lì. La c'è lì. Hai le mani in cuore. C'ha le anelli, le cose mi fanno male. Ah, non è anelli. No, lei ha le anelli, ha la fede, ha il braccialetto, ha l'orologio di... No, non lo faccio fare papà, è chillato, non lo faccio fare. Poi te l'hai andato un po' l'altro. Ma no, 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 no. Ma no, 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 no. No, diteglielo voi. Mh, mandate i commenti social, la caccia erogno solo con l'audio. Mandate i commenti social. A te Sara, Sara, a te.